Il mio tradizionale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia, la trasmissione che ormai conoscete tutti di approfondimento, nella quale parliamo dei fatti che riguardano la nostra regione e non soltanto, cercando di capire meglio le cose di cui quotidianamente scriviamo sul giornale e che voi molto carinamente leggete e apprezzate. Oggi è il nostro ospite il professor Carlo Amenta, grazie per essere qui con noi, per chi non lo conoscesse, nel ruolo di commissario della ZES della Sicilia occidentale. Le ZES, per chi non lo sapesse, sono le zone economiche speciali e noi abbiamo titolato questa trasmissione una occasione da non sprecare, l'ennesima di lei fra le occasioni che ha avuto la Sicilia, l'ennesima occasione che non dobbiamo sprecare, dico bene professor Amenta? Sì, certamente le ZES, le zone economiche speciali per l'appunto sono uno di quei modelli di sviluppo, li chiama qualcuno, uno strumento di coesione, preferisco chiamarli io, perché attraverso una specialità amministrativa e anche economico fiscale dovrebbe dare alle imprese un motivo in più per insediarsi nelle zone del mezzogiorno, non a caso sono tutte insediate nelle zone cosiddette obiettivo 1, quel maggiore ritardo e quindi dovrebbero essere quello che effettivamente secondo me è importante che sia, cioè uno strumento di coesione che consenta di ridurre quel gap fra il PIL del sud, in particolare della Sicilia e del resto d'Italia che ricordiamo di fatto non è mai, non si è mai ridotto se non per un periodo piuttosto breve, diciamo tra la fine degli anni 60, l'inizio degli anni 70. Per chi ci segue, obiettivo 1, obiettivo convergenza e poi una strategia che è stata stabilita anche a livello europeo, sono quelle regioni che non sono in linea con la media delle regioni europee e che si vuole, almeno secondo la strategia europea sposata dai paesi che ne fanno parte, si vuole portare al livello medio delle altre regioni. Tra queste regioni ce n'erano tante altre regioni europee, in molte i fondi comunitari hanno funzionato, come è successo in Spagna, come sta succedendo in alcune regioni della Polonia, ma queste sono considerazioni del tutto personali che faccio io, ma sono abbastanza convinto di essere nel giusto, purtroppo non è successo qui in Sicilia. E allora, se non hanno funzionato i fondi comunitari, o la gestione dei fondi comunitari, perché dovrebbero funzionare le ZES? Le ZES intanto sono un meccanismo un po' diverso, perché sono un meccanismo istituzionale che proprio a partire da una riforma del 2021 vede insieme la regione interessata, e quindi in questo caso la regione siciliana, e la presidenza del Consiglio dei Ministri. Non dimentichiamo che le ZES sono state istituite nel 2017, non hanno funzionato di fatto purtroppo fino al 2021, quando proprio grazie a una riforma del PNRR il governo Draghi inserisce la figura dei commissari straordinari. Capita spesso, purtroppo, nel nostro paese quando una cosa non funziona si decide di fare un commissario, e però devo dire, lo dico chiaramente con maggiore attenzione a quello che fanno i miei colleghi più che a quello che faccio io, però in generale l'arrivo dei commissari ha consentito l'avvio dello strumento. E quindi credo che da questo punto di vista, sia per la concezione, commissario straordinario con poteri straordinari, sia in termini di infrastrutture, sia in termini appunto di attrazione delle imprese, è una unione istituzionale tra il governo centrale, la presidenza del Consiglio che i commissari rappresentano, e la regione che è poi la depositaria del piano strategico delle ZES, credo sia una soluzione che ci deve fare ben sperare. Bene, le ZES hanno in buona sostanza due direttrici di intervento, possiamo definirle così in estrema sintesi, da una parte quello fiscale, perché in buona sostanza le imprese che si insediano, che hanno sede all'interno delle ZES, possono avere dei benefici fiscali. La seconda parte, il secondo braccio di questa operazione deve essere quello di essere attrattore di investimenti, e non può essere soltanto il beneficio fiscale l'attrattore. Sì, il beneficio fiscale in realtà oggi è certamente importante, nel senso che c'è il cosiddetto credito sud, che già esiste, che viene potenziato fino a 100 milioni, con la possibilità di acquistare il capannone, il terreno, ristrutturare e ampliare il proprio capannone, poi ci sono altre misure, tra cui il contratto di sviluppo, ci sono un insieme di benefici, però diciamolo chiaramente, non sono paragonabili con quelli alle ZES del resto dell'Europa. In Polonia, o in Serbia, o in altri paesi si riesce ad avere addirittura il 100% dell'investimento a fondo perduto, lì non siamo competitivi. Dove invece ritengo che possiamo essere competitivi è proprio nella parte amministrativa, nel secondo braccio di cui parliamo, cioè il commissario è tenuto a rilasciare all'impresa che fa richiesta di investire in un determinato parte del territorio dove è insediata la ZES, una autorizzazione unica, secondo il principio anglosassone del one stop shop, quindi del negozio in cui si va una volta soltanto, l'imprenditore va dal commissario, presenta il proprio progetto e al termine dell'iter, che è abbreviato per ragioni di legge e con poteri speciali dati al commissario, ottiene, se il progetto chiaramente lo merita, lo merita nel senso che ha tutte le carte in regola, un'autorizzazione unica, un pezzo di carta che è l'unica cosa che gli serve per poter avviare. Quindi la sburocratizzazione, la semplificazione amministrativa a mio avviso è la chiave vincente delle ZES italiane. Questa è la situazione cristallizzata ad oggi, quelli che sono i poteri, quelle che sono le cose che si dovrebbero fare. Da quanto tempo è in funzione tutto questo sistema? E allora, i commissari, i sette commissari per le otto zone economiche speciali italiane sono in carica di fatto dal gennaio del 2022, hanno cominciato i primi, poi mano a mano l'ultimo si è insediato a luglio dello scorso anno. Quindi non moltissimo tempo, io nello specifico sono in carica a gennaio del 2022 e abbiamo cominciato a creare la struttura, quindi le persone che lavorano accanto al commissario, così come lo strumento fondamentale, cioè lo sportello digitale a cui si presenta la domanda a partire di fatto tra aprile, maggio e giugno. Quindi un primo bilancio che in questo momento non ha neanche un anno di vita rispetto a quello che si è potuto realizzare. Poco tempo nel quale però francamente abbiamo avuto, grazie anche alla collaborazione, al supporto dell'Agenzia della Coesione Territoriale che è l'organo nazionale che fa da supporto ai commissari, abbiamo avuto la possibilità finalmente di fare a partire lo strumento e oggi la ZES è una realtà, mentre fino a 8, 9, 10 mesi fa non lo è. Bene, mentre invito la regia a fare scorrere le prime immagini che ci mostrano i territori della ZES della Sicilia occidentale, cominciamo da qui. Intanto il territorio che è stato individuato per la ZES è un territorio estremamente vasto, variegato e da tendenze diverse fra di loro, o sbaglio? Sì, certamente è vasto nell'ampiezza, non nell'ampiezza degli ettari che sono destinati alla ZES, perché alla fine la percentuale complessiva della Sicilia dedicata alle ZES sia fra orientale che occidentale non è una percentuale del territorio molto elevata. Certamente lo è da un punto di vista della vocazione dei diversi territori, dei comuni che fanno parte della ZES della Sicilia occidentale. E' la cultura produttiva, se mi permette. Sì, e certamente questo parte dal piano strategico regionale che è proprio la base della ZES. Il commissario riceve un piano strategico che diventa parte proprio della ZES tramite un DPCM che la istituisce e devo dire però adesso c'è la possibilità di riperimetrare queste aree, quindi di imporre anche un rimedio ad alcuni sbilanciamenti o magari ad alcune aree che sono state scelte anche un po' di fretta e quindi questo è un lavoro che stiamo facendo grazie soprattutto alla collaborazione con la regione siciliana, con l'assessore Tamayo che siede in comitato di indirizzo nell'organo di amministrazione ed è un lavoro che ci sta impegnando molto proprio per dare quell'idea che diceva lei di una vocazione diversa, forse più omogenea e più armoniosa in qualche modo. Perché serve anche far comprendere a chi eventualmente deve investire che si trova in un territorio che ha un'armonia produttiva e una vocazione univoca. Sì, io devo dire che faccio un po' sempre di fatica a pensare in qualche modo a una politica industriale calata dall'alto, credo che l'idea di avere più comuni che partecipano alla ZES è una ricchezza per due ragioni, la prima che non si sceglie necessariamente cosa fare ma sono le vocazioni territoriali che arrivano dal basso, che richiamano potenziali investitori, dall'altra si hanno più centri di attrazione, i comuni spesso, i sindaci sono spesso la prima frontiera a cui si rivolge l'investitore, questa è una cosa che magari uno non sa, ma spesso i sindaci mi chiamano dicendo, sa professore mi hanno chiamato per dirmi che vogliono venire, ecco questo per esempio avere più sindaci, più comuni secondo me potenzia questi aspetti e poi un aspetto fondamentale che secondo me la vera scommessa della ZES almeno in questa fase iniziale sono le infrastrutture. Più comuni che siedono in parti del territorio più omogenee possono permetterci di lavorare su un sistema infrastrutturale che collega meglio questa parte della Sicilia. Ecco, allora parliamo proprio di questo, infrastrutture, perché visto che non siamo competitivi sui vantaggi fiscali, come abbiamo detto in maniera chiara, forse se lo siamo da un punto di vista autorizzativo dovremmo esserlo anche da un punto di vista infrastrutturale, è chiaro ed evidente che chi viene a produrre ha bisogno di spostarsi, di spostare le merci, di fare arrivare le materie prime, ma soprattutto in un'area così vasta come quella di cui abbiamo parlato c'è bisogno di infrastrutturazione fra gli stessi comuni che partecipano alla ZES, quindi come intervenire da questo punto di vista? Assolutamente, questo io ritengo che sia un punto cruciale, quando ho assunto l'incarico immaginavo che la cosa più importante da fare nei primi sette anni, che è la prima parte della durata della ZES, eventualmente rinnovabili per altri sette, fosse riuscire a portare due o tre grosse multinazionali. Più vado avanti più mi convinco che il compito principale in questi primi sette anni è quello di rendere le zone economiche speciali almeno ordinarie e mi spiego meglio, purtroppo la carenza infrastrutturale di queste zone, sia in termini di servizi, di urbanizzazione primaria, noi abbiamo zone industriali che sono zone ZES dove mancano le fognature, quindi dove è impossibile chiamare un imprenditore a investire, c'è il tema delle strade che tutti conosciamo. I commissari della ZES possono agire da stazione appaltante, inderoga il codice degli appalti sui fondi PNRR, noi lo stiamo già facendo su un intervento a Trapani, il cosiddetto intervento di ultimo miglio di collegamento del porto con il retroporto è l'autostrada, abbiamo già assegnato sia i lavori che la progettazione e in questo momento siamo in linea con le scadenze del PNRR, tanto che ci siamo offerti ai comuni e il Comune di Palermo e il Sindaco Lagalla ha subito accolto questa possibilità e stiamo supportando il Comune di Palermo a spendere 54 milioni per la riqualificazione e l'infrastrutturazione della costa sud che è prospicente a Brancaccio. Quindi i commissari della ZES che partecipano anche per legge alla programmazione regionale possono essere a mio avviso i soggetti che si intestano un piano di opere pubbliche necessarie a infrastrutturare le zone economiche speciali. E i soldi da dove vengono? I soldi vengono dal PNRR per quanto riguarda le cose che vi ho detto, quindi Trapani e la costa sud, per quanto riguarda invece le altre opere noi abbiamo intanto avuto un fondo di un milione dal Ministero dei Trasporti per finanziare dei progetti e lo abbiamo già fatto, adesso a breve andremo in gara su tre interventi a Carini, in area RIMED, ad Agrigento e a Serra di Falco per dare ai comuni quei progetti che spesso mancano per poi realizzare le opere. Serra di Falco è un'area industriale nel Nisseno che per noi è una certa rilevanza per la posizione centrale e poi nel caso della programmazione sui fondi strutturali europei. Aiuteremo la Regione, aspettiamo la firma del DPCM a parte del Ministro Fitto per diventare organismi intermedi, cioè per consentire alla Regione di affidarci quei fondi a cui faceva riferimento all'inizio, è che la Regione nell'ultima programmazione ha speso solo per il 37% su una media italiana del 42% e quindi dandole ai commissari probabilmente riusciremo a spingere anche noi questa macchina realizzando quelle opere che servono. Questo è un passaggio fondamentale. Allora, abbiamo detto un pochettino quelle che sono le visioni che ci sono nel futuro, ma cosa è stato fatto fino ad oggi in considerazione del fatto che comunque è un anno o poco più che si lavora evidentemente? Allora, noi abbiamo già rilasciato 5 autorizzazioni uniche su circa 20 richieste che abbiamo ricevuto, alcune non le abbiamo potute trattare per ragioni burocratiche legate ai codici attività che sono presenti sul piano strategico regionale e che la Regione si è già impegnata a sistemare insieme a noi. Quindi già è emerso il fatto che è necessario rinnovare il piano strategico? È necessario intervenire sul piano strategico perché è stato scelto di indicare alcuni codici attività specifici che non consentono ai commissari di lavorare, di dare benefici ad alcuni settori che sono stati esclusi. Di questo la Regione, in particolare l'assessore Tamayo, è assolutamente informato e stiamo già lavorando con la Regione per cambiare proprio questa situazione. Quindi questo è quello che noi abbiamo fatto, 20 richieste con già 5 autorizzazioni uniche, la prima in 28 giorni, quella che ci abbiamo messo di più, 3 mesi e mezzo a fronte di tempi medi di 9, 10, 12 mesi, quindi una reale accelerazione dei tempi di autorizzazione. Adesso abbiamo già raccolto oltre 15 o 16 richieste che stiamo cominciando a lavorare. Tenete conto che con noi questa autorizzazione unica significa per il commissario e per la struttura indire una conferenza di servizi e fare quel lavoro di ottenimento dei singoli pareri dai singoli enti che l'impresa avrebbe dovuto fare da sola. Quindi i primi risultati sono risultati più che incoraggianti rispetto all'utilizzo dello strumento. Quando io mi sono insediato la ZES era una speranza, oggi è una realtà. Noi incontriamo come struttura commissariale 3-4 imprese alla settimana che si interessano, vogliono investire e la cosa che a me fa più piacere è sapere che poi le persone che lavorano con me ricevono da queste imprese una quasi con incredulità delle frasi del tipo non pensavamo una pubblica amministrazione potesse lavorare così. Ecco, l'idea dello sportello unico, del supporto all'imprenditore è una cosa che comincia a passare e questo credo sia il risultato migliore della ZES fino a ora. Allora, professore, ci faccia sognare un attimo. 5 autorizzazioni rilasciate, quindi avremo insediamenti di che tipo di prodotto? Non voglio sapere chi, ma che cosa produrremo? Guardi, noi abbiamo avuto, in questo momento abbiamo specialisti dell'edilizia, perché è un settore che chiaramente per ora va moltissimo. Che si andrà a insediare o dove? Noi abbiamo avuto Carini, Partinico, imprese che fanno meccatronica, adesso abbiamo ricevuto tra Carini e Partinico quelle che abbiamo già autorizzato, è una nella zona di Calatafimi Segesta, che è un'importante impresa che aveva un problema proprio di autorizzazione ambientale, quindi diciamo che lì i tempi sono sempre più lunghi e siamo stati abbastanza efficienti e per il resto abbiamo già contatti con diversi investitori, devo dire c'è anche un interesse che spesso non mi aspettavo, devo dire la verità, da imprese internazionali, c'è stata proprio un'interlocuzione abbastanza assidua con il Consolato americano rispetto alla possibilità di fare veicolare le ZES, abbiamo avuto incontri con l'ambasciata di Israele, quindi c'è un fermento e c'è un interesse, chiaramente c'è una dinamica di tempo che necessita di un po' di spazio per realizzarsi. Ora le faccio una domanda che potrebbe sembrare politica, ma politica non vuole essere, perché non vogliamo fare politica in questa occasione, ma dal vostro punto di vista, per quello che sono le imprese, soprattutto quelle che vengono da fuori, l'eventualità di fare il ponte, è un di più oppure no? Allora guardi, io sono stato proprio qualche giorno fa audito alla Camera dei Deputati sul punto, sul ponte sullo stretto e insieme al collega della Sicilia orientale abbiamo portato proprio l'idea, la nostra opinione, chiaramente basata sui fatti, che il ponte è un necessario volano per le zone economiche speciali, questo perché nel caso per esempio della Sicilia occidentale, aree come Termini Merese, dove presto proprio l'autorità portuale guidata Pasqualino Monti, realizzerà alcuni interventi PNRR importanti che faranno del porto, la porto industriale della Sicilia occidentale, la zona di Caltanissetta che è una zona importante perché centrale e il porto di Porto Empedocle che si affaccia sull'Africa, faccio proprio tre esempi di tre zone economiche speciali della Sicilia occidentale che dal ponte e dalla chiusura del circuito che ci consentirà di fare il ponte, soprattutto in termini ferroviari, perché quello è il vero valore aggiunto del ponte, credo che sia davvero un non senso ancora discutere se si debba fare o meno. Era una domanda precisa che non voleva intervenire sulle questioni politiche e abbiamo ottenuto una risposta tecnica, questo era quello che volevamo. Fra le cose che avete fatto ci sono anche alcune, una in particolare firma di protocollo, anche invito la regia a mandarci le immagini, che protocollo è questo che avete firmato? Questo è quello che ritengo un passaggio fondamentale proprio per la presentazione e la reputazione rispetto a quegli investitori a cui facevamo riferimento prima, cioè a quelli che devono venire da fuori la Sicilia, è inutile negarlo, l'immagine della Sicilia ancora oggi, sia in alcune parti del paese, sia al di fuori è fortemente legata purtroppo alla presenza della mafia e della criminalità organizzata. Questo protocollo di legalità firmato con i prefetti delle zone della Sicilia occidentale, quindi il prefetto di Palermo, di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani, ha fatto sì che noi ci siamo dotati di uno strumento che sia nella realizzazione degli appalti del PNRR, sia nel rilascio di autorizzazione unica, darà la possibilità al commissario di verificare attraverso la banca dati Interforce che è gestita dalla prefettura, eventuali infiltrazioni di natura criminale. Ci siamo dotati di uno strumento che certamente non solo ci aiuterà a essere più severi rispetto a possibili infiltrazioni, ma darà anche un segnale all'esterno che non esiste. Sviluppo senza legalità non è retorica perché lo dicono i fatti, lo dice la letteratura economica che su questo è abbastanza netta e segnala che il commissario è, da questo punto di vista, un baluardo di legalità rispetto a tentativi di sfruttare i fondi per cercare di arricchirsi illecitamente. Quindi si possono rilasciare autorizzazioni velocemente ma facendo gli opportuni controlli? Assolutamente, noi abbiamo già rilasciato queste autorizzazioni che sono soggette a revoca proprio in caso di eventuali notizie, adesso abbiamo già avviato i controlli, aspettiamo le risposte e chiaramente in caso di risposta negativa che in questo caso supera addirittura all'interdittiva perché ci siamo dati dei limiti un po' più alti rispetto a quelli ordinari, noi revocheremo chiaramente quelle autorizzazioni che abbiamo dato, ci auguriamo ovviamente che non sia così e che chi si è presentato al cospetto del commissario lo abbia fatto, adimato alle migliori intenzioni, però chiaramente questo sarà un necessario passo, non ci interessa fare numeri, non ci interessa fare tante autorizzazioni, ci interessa farne poche ma buone. Quali saranno i prossimi passi? Noi abbiamo circa tre minuti da qui alla fine della trasmissione, quindi quali saranno i prossimi passi dell'attività del commissario? Allora certamente la riperimetrazione, non appena il Ministro firmerà il DPCM che darà il via a questo passaggio, ci consentirà di non solo rivedere le aree attuali ma di guadagnare diversi ettari per inserire nuovi comuni, con un'azione congiunta appunto con la Regione Siciliana, noi pensiamo proprio di riuscire a completare in qualche modo questo sistema inserendo alcuni comuni che sono rimasti fuori per varie ragioni e che oggi invece riteniamo sia opportuno possano entrare. Dopodiché l'altro passaggio fondamentale è finalmente dare maggiore corpo, una volta che abbiamo costruito le basi e le fondamenta dell'edificio, alla promozione di queste aree. È una delle attività che compete al commissario ma che richiede certamente una sapiente guida da parte del Ministro e da parte degli apparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi la svilupperemo adesso piano piano, una volta che abbiamo gli strumenti per rispondere alle esigenze delle imprese. Il mandato come dicevamo durante la trasmissione dura sette anni, sette anni che sono rinnovabili ma intanto è un mandato di sette anni. Qual è quella cosa che da qui ai sette anni ritiene che sarà un successo se sarà stata fatta. Quella cosa che può dire che questa è la mia eredità eventuale a questa struttura alla Sicilia. Guardi, certamente la realizzazione degli interventi PNRR che stiamo attuando e quindi sia quello di Trapani sia la costa sud per Palermo mi farebbero andare a dormire certamente sereno sapendo che ho fatto il mio dovere. Questo sono genericamente, ma c'è una cosa proprio identificabile, chiara, diretta che può essere un'opera. Io credo che la costa sud che questa città aspetta veramente da oltre 70 anni se riusciamo a contribuire a questo grazie ai poteri speciali e quindi a infrastrutturare sia proprio il simbolo di quello che nei primi anni siamo riusciti a fare e poi chiaramente spero di riuscire a portare una multinazionale, portare chiaramente un grosso investimento nelle aree che invece già sono infrastrutturate e per le quali, ripeto, c'è interesse. Molto velocemente, che tipo di ricaduta occupazionale ci aspettiamo o speriamo? Guardi, il problema della ricaduta occupazionale nell'economia moderna in cui i servizi la fanno da padrone è sempre complicato da gestire. Io credo che la cosa importante sia riuscire a evitare il cosiddetto effetto spiazzamento, cioè attrarre chi veramente viene qui e non sarebbe venuto e non chi invece avrebbe comunque investito e vuole soltanto approfittare dei benefici. Quindi la mia speranza è non tanto di avere tanti occupati in più quanto di avere certamente imprese che lasciano un valore aggiunto nel futuro. Grazie a Professor Carlo Lamenta per questa mezz'ora che ci ha dedicato. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Speriamo di avervi fatto comprendere quali sono le attività del ZESA, che cosa servono, perché altrimenti resta soltanto un acronimo vuoto di per sé. Grazie ancora e appuntamento al prossimo Talk Sicilia. Arrivederci.